E' bellissimo. Sta bene. Sì, Tom, sta benone. Ma guarda com'è affettuoso nei tuoi confronti. Tu hai un tocco speciale, come tuo padre. Sì, hai un tocco speciale. Ha vissuto momenti difficili, dove era prima necessita di attenzioni particolari. E qui allo zoo di Belfast sappiamo come farlo. Tom, digli come l'hai chiamato. Buster. Beh, io credo che qualcuno dovesse trovargli un nome. E chi è meglio di lui, signore? Sì, esatto. Ben detto, sì. Ben detto. Ok, molto bene, allora. Proseguita.